Ma considerazioni poche nel senso che ci sono dei dati oggettivi che sono quelli della centralina di via Montegrappa che nella giornata di domenica hanno registrato un abbassamento significativo ma insufficiente delle polveri sottili. Siamo passati infatti da 80 mg a metro cubo di sabato a 57 di domenica. Una diminuzione ma non sufficiente rispetto non solo ai limiti di legge che sono prescritti ma anche rispetto proprio a un'esigenza che noi abbiamo in questo momento di affrontare in maniera forte il tema delle polveri sottili. Questo vuol dire quindi che dovremo rivedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni una serie di provvedimenti che del resto avevamo individuato e presentato da subito come sperimentali e provare a mettere in campo soluzioni più strutturali. Da questo punto di vista è chiaro che il nodo rimane quello forte del traffico di attraversamento veicolare della nostra città in particolare sugli assi dell'Adriatica e della Flaminia. Questo vuol dire anche immaginare una serie di interventi che siano focalizzati a questo punto direttamente sui mezzi più inquinanti che attraversano la nostra città anche perché sul traffico veicolare c'è la possibilità di poter intervenire in maniera più diretta ed è chiaro che a questo punto gli interventi che dovremmo immaginare dovranno essere più estesi, più articolati e probabilmente con caratteristiche diverse da quelle della Domenica Ecologica che è stata una sperimentazione che ha dato alcuni risultati ma che appunto evidentemente non è sufficiente ad affrontare una fase di difficoltà che è straordinaria, che non riguarda ovviamente solo la nostra città ma un po' tutto il centro nord Italia e che dall'inizio dell'anno vede già 16 sforamenti quindi una cifra importante, ragguardevole che non permette di rinviare oltre interventi che io peraltro avevo auspicato più strutturali soprattutto sulla viabilità. Domenica quindi è confermata la Domenica Ecologica o ripenserete anche a questa eventualità visto che comunque non ha dato risultati sperati. Per il momento ovviamente è confermata ma nulla toglie che se ci sarà la possibilità di mettere in campo nei prossimi giorni soluzioni migliori e più efficaci lo faremo superando anche la Domenica Ecologica. Ovviamente questo dipende da una serie di valutazioni, da una serie di condizioni non ultime anche quelle climatiche meteorologiche e anche della capacità logistica di poter mettere in campo in pochi giorni interventi che siano molto più ampi, molto più articolati e ovviamente in questo caso molto più diretti ad affrontare ed aggredire il problema delle polveri sottili.